amici tuttocesto.net buongiorno terza domenica all'insegna del verde della natura siamo alla necropoli di pallastreto ringrazio nuovamente il mio cameraman speciale mio babbo daniele niccoli oggi camminata nella valle della zambra il cosiddetto fiume dei morti quindi seguitici e più tardi pubblicheremo il link con la notizia sulla scoperta della tomba etrusca della montagnola a quinto ciao amici tuttocesto.net finalmente abbiamo raggiunto la nostra meta siamo alla celebre ponte giallina sopra di me il presente detto qua siamo al ponte di spartimoglie sulla strada piana dei ginori che incontra perpendicolarmente il viottolone ginori e che porta a Carmignanello ultima tappa siamo alla tomba etrusca della montagnola a punto alto venite a visitarla visite organizzate come sempre dall'altro loco e che riprenderanno a breve tanti saluti grazie a tutti